Posso fare qualche foto al suo cani? Grazie. Come si chiama? Maya. Hanno sette anni. Avevo sua sorella di nove mesi e che me l'hanno messa sotto la macchina. E così ne ho preso subito, ho preso lei. Come si chiama? Zelda. E lei invece era un mio fidanzato che la trattava male e l'ho presa lei.